Srotolate un rotolo di pasta sfoglia direttamente nella teglia. Sbucciate quattro pere mature, tagliatele in due per il lungo ed eliminate i semi. Adagiatele su un piatto e irroratele con il succo di un limone. Bucherellate con i rebbi di una forchetta la pasta sfoglia. Stendetevi un velo di marmellata di albicocche, sistematevi le pere, spennellatele di miele, guarnite con 20 grammi di mandorle tritate e richiudete la pasta che fuoriesce dalla teglia. Passate in forno caldo a 180 gradi e fate cuocere per 35 minuti.